salve a tutti allora oggi volevo rispondere alla domanda che mi ha detto quali sono i tuoi dieci album preferiti mi hanno chiesto e quelli che porteresti sulla fantomatica isola deserta sull'isola deserta ragazzi non ci voglio andare magari in mezzo a un bosco spesso in mezzo alla montagna ma l'isola non fa per me comunque cominciamo subito con la decima posizione del mio disco dei miei dischi preferiti ed è the best of eagles questo questo disco mi ricordo che penso di aver avuto tipo dieci anni una roba del genere quando ma no fu di più 12 forse 12 anni sì 12 anni e il mio amico michele me lo portò a casa con la febbre mi portò i compiti mi portò anche questa cassetta che ha il suo fratello registrata poi tra l'altro quindi neanche piratata e io gli prestai una dei dei a stress perché a lui piacevano money for nothing io ce l'avevo originale e mi diede a questo disco e devo dire che era veramente una cosa stratosferica tutto oggi quando li ascolto mi danno sicuramente molto c'è hotel california che è una canzone storica penso che quasi tutti abbiano ascoltata chi non l'ha ascoltata vada ascoltare perché è una vergogna non l'ha ascoltata una solo di chitarra da entrambi i chitarristi è entrata nella storia cioè non c'è poco da dire poco da fare poi c'era tech in easing che è bellissima ogni tanto la insegna meglio è molto molto bello sto brano anche hotel california insegno perché era solo finale veramente è una solo che ha studiato perché è bellissimo e tech in easing quando l'ascoltavo mi dava questa impressione di spazi aperti di viaggiare sulle strade americane con la macchina decappottabile no era veramente una gran figata era bellissimo poi bisogna dire che una cosa che si può notare molto bene in questi dischi la registrazione la qualità sonora delle chitarre acustiche secondo me tutt'oggi è imbattuta perché la perfezione di quelle chitarre acustiche le veramente c'era solo qualche disco di de andrea che aveva questa queste chitarre acustiche registrate pressoché nello stesso modo era un suono incredibile hotel sovramonte che non è in questa classifica ma dovrebbe esserci perché hotel sopramonte è veramente bellissimo grandisco anche quello so che stiamo parlando di eagles però anche hotel sopramonte è sicuramente un disco che andrebbe portato dappertutto se ti tagliassero a pezzetti no come era la canzone ma adesso non mi ricordo ma comunque è un grandissimo disco chiamato molto e la qualità sono una delle chitarre acustiche era molto simile a quella degli eagles poi c'era un pezzo che mi piaceva molto di questo disco che si chiamava ai can tell you why che mi piaceva tanto l'inizio che ha tipo così mi piaceva tanto questo pezzettino che era proprio figo cantato molto bene cantavano tutti e tutti cantavano bene qui questo è la decima posizione passiamo oltre la nuova posizione alchemy ragazzi se non avete mai ascoltato alchemy per favore prendete stoppate andate ad ascoltarvi alchemy e poi tornate perché è un disco un doppio album dal vivo dai di a stress che non è bello perché dire bello è riduttivo è storia per tanti versi tantissimi brani meravigliosi tunnel of love telegraph road saltano un swing con una solo finale che secondo me è uno degli assoli più belli della storia del rock maxi nofner ha fatto una roba imperiale veramente andate ad ascoltarvelo perché è veramente stato sferico poi c'era anche private investigation che è un brano fatto con la chitarra classica mi ricordo che avevo tipo 15 anni se non sbaglio 16 anni adesso non mi ricordo bene sono passati tanti anni ragazzi purtroppo e c'era un gruppo che suonava un paio di pezzi di day a stress e mi chiedono mi chiesero se avessi potuto imparare questo brano e andare come special guest a suonare questo brano con loro perché il loro chitarrista non uscìva a suonare private investigation perché era un po' complicato diciamo che era questo chitarrista era molto bravo però ci voleva una tecnica diversa per suonarlo tutto qua che un chitarrista elettrico magari non aveva all'epoca perché oggi i tempi sono cambiati io lo studiai lo trascresi tutto e andai a suonarlo ho un bel ricordo mi dispiace che non me lo ricordo più perché sono passati penso di averlo suonato quella volta e non averlo mai più suonato ed è un peccato perché era sicuramente un disco un brano fantastico bellissimo comprai persino la chitarra uguale a quella di Mark Nofner la Chet Eskings chitarra classica e per un po' la suonai molto spesso con la chitarra lì all'inizio ma avevo tipo 16-17 anni quando la comprai ma la darei vendetti perché non faceva per me quindi comunque ragazzi andate a sentire sto disco perché c'è roba di un altro livello allora siamo all'ottava posizione se non sbaglio del 2008 se Bill Floyd ragazzi non potete continuare la vostra esistenza se non ho ascoltato questo disco perché a parte che più che un disco è un brano perché è un concept album del 79 se non sbaglio io ho sei anni ma veramente bellissimo bellissimo c'era Goodbye Blue Sky che secondo me è andato a vedere anche il video è stupefacente ed è un disco un brano scusate molto molto intenso ma tutto il disco con un confortabile in amb cioè veramente ragazzi ho anche visto il film che ha fatto Roger Waters parlando di quello sì poco tempo fa ha fatto questo questo film due anni fa ormai credo bellissimo se avete occasione guardatevi il film così ascoltate sia la musica sia vedete questo film che è fatto molto bene vi chiedo scusa ottava posizione The Wall cioè ragazzi ecco ho detto tutto settima posizione Astor Piazzolla allora molti mi diranno ma com'è Astor Piazzolla sopra 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 Astor Piazzolla ragazzi è tantissima roba questa è una cosa un po' magari per intenditori nel senso che senza ombra di dubbio è qualcosa di più ricercato ma Astor Piazzolla ragazzi cioè ha fatto dei brani incredibili tutti dicono ma non so chi è Astor Piazzolla poi gli canti Libertango o glielo fai sentire ah sì perché Libertango l'avete sentito tutti una parte o dall'altra perché è un brano estremamente famoso ma estremamente famoso poi devo dire che due stati fa hanno fatto vicino qui dove abito hanno fatto le quattro stagioni di Piazzolla prima hanno fatto le quattro stagioni di Vivaldi poi quelle di Piazzolla le quattro stagioni di Vivaldi belle va bene le conosciamo tutto quello ma le quattro stagioni di Piazzolla ragazzi tantissima roba Piazzolla per me è un grandissimo compositore per chi non lo sa un compositore argentino si può dire il tango vero e proprio secondo me il suo anche se poi c'erano varie traversie ma comunque capisco che questo sia un ascolto un po' più mirato in confronto a Dea Strezzo e a Pink Floyd però vi assicuro che c'è una magia all'interno è un il sangue pulsa con Piazzolla secondo il mio punto di vista grande Piazzolla sesta posizione ragazzi allora the best of Frank Sinatra ragazzi Frank io posso essere depresso a morte metto su Frankie e a me passa qualsiasi depressione che esista su questa terra ha una voce Frank Sinatra ragazzi che lo so che magari vedete ma vecchio che sei no no Frank Sinatra è per sempre non è questione di età cioè I got the muskian o ma veramente c'è una roba vi apre tutti i chakra cioè è impressionante cioè per me Frank Sinatra è una roba non so è l'unico che riesce veramente a tirarmi sul morale in qualsiasi occasione sento Frank e dico ah Frankie cioè tutto mi si tutto si riappiana tutto torna dove deve stare quindi ragazzi ascoltate Frankie con questa specialmente quelli un po' swingati ma è una roba a me piaceva morire poi fatto come volete quinta posizione se non sbaglio sì questo era vediamo sì The Way Up di Palmettini allora The Way Up è uno dei dischi che io penso di aver ascoltato di più di Palmettini Palmettini per me è stato molto importante ho ascoltato tantissimo Palmettini ma tutti i dischi di Palmettini veramente dal primo all'ultimo li ho ascoltati a parte adesso che ultimamente i dischi che fa non mi piacciono molto non so non riesco più fino ad Orchestrion per chi conosce Palmettini è un grandissimo chitarrista jazz il Palmettini Group ha vinto non so quanti premi che ha i Grammy Awards roba c'è quindi ragazzi capisco che anche questo è di nicchia perché più saliamo più di nicchia diventiamo però è un disco che ho ascoltato all'infinito penso di averlo ascoltato milioni di volte penso di che sia solo un disco che è il primo della nostra classifica di oggi che ho ascoltato più di The Way Up però è bellissimo devo dire che chiaramente Mattini lo ascolto anche se non chitarrista lo ascolto anche perché come come studio ho studiato molto Mattini ho anche fatto una tournée in giro suonando i standard di Mattini fare le cover di Mattini però nel jazz è un po' diverso una cosa diversa nel senso non so per chi sa è ovvio ma per chi non sa può essere complicato capire questa cosa comunque diciamo che si prende la melodia principale e la si trasforma un po' come si vuole ecco diciamo si fa gli assoli soprattutto come si vuole e ho fatto uno o due tournée non mi ricordo un po' di anni fa facendo la musica di Mattini e The Way Up è sicuramente l'ho visto dal vivo ed è stato il concerto più bello musicalmente parlando della mia vita fino a questo momento ok quarta posizione All'Hop Supreme e qui siamo ancora più in alto All'Hop Supreme ma John Cole Train proprio a parte che secondo me tutti quelli che suonano sassofono lasciate perdere ragazzi è inutile quello che ha fatto col train col sax è irrifaccibile da chiunque non so se mi spiego ma è arrivato talmente in alto che io mi ricordo che avevo già 25 anni credo e per un mese intero io l'ho ascoltato ogni sera io andavo nel letto mettevo la cuffia e ascoltavo All'Hop Supreme per un mese intero e non riuscivo a smettere ragazzi e più ascoltavo più mi sembrava di essere all'interno del disco in certi momenti di essere dentro il sax di sentire tutto che si muovesse tutto perfetto tutto si capisce veramente quanto un compositore possa arrivare a dei livelli così eccessi così trascendentali così incredibili da smuovere qualsiasi cosa perché io non sono uno che ce l'ha con la musica diciamo di come si può dire quelle canzonette con le cose un po' meno diciamo perché per me va bene tutto cioè io posso ascoltare qualsiasi cosa non so ascolto gli ACDC no in certi momenti della mia vita posso ascoltare All'Hop Supreme in altri certi momenti della vita perché un gioco il tren sicuramente ti allarga lo spettro visivo della mente perché non c'è verso c'è questo disco poi c'è Meditation anche dietro che è un disco di una difficoltà mostruosa da capire devi ascoltarlo e ci metti in fatica per riuscire veramente a dire ma che roba che roba perché magari all'inizio ti dici ma che casinca però dopo ti apre il cervello ti fa vedere cose che fede non ti può dare adesso John ti prego ma magari con musica della discoteca vai a ballare è chiaro che con Coltrane non puoi andare in discoteca a ballare perché non ha senso e quindi è giusto che ci sia una musica della discoteca che ci sia questo quest'altro che ogni musica ti ha qualcosa ma avere come si può dire l'intelligenza di ascoltare musica anche di questo livello per accrescere il cervello perché le frequenze sonore che escono da questo disco non sono basiche adesso non voglio farvi un sermone ma pipipi pipipi lo conoscono lo capiscono tutti questa cosa qua è una cosa che va dentro che scava dentro la vostra anima e vi apre la visione del mondo cioè capite è come quando leggete un libro cioè voi leggete un libro di che ne so io adesso mi viene difficile ma ho leggete un libro di non mi viene in mente anche una che volevo far sta cosa ma ci sono libri che ne so o di Kafka che ne so la prima cosa che mi viene in mente o per me quando lessi Siddhartha la prima volta mi diede un'apertura del cervello chiaro se tu leggi Fabio Volo non puoi avere questa apertura del cervello puoi avere una bella lettura magari che ti ti fa passare un po' di tempo tranquillo rilassato e ti fa compagnia e va bene pure quello ma ci deve essere sia quello che ti a me cide panettone ad esempio io li vedo e mi rilassano ok chiaro che non sono l'epopea del cinema però mi rilassano mi rilasso li guardo sicuramente non sono film incredibili come certi film che ha fatto Woody Allen per esempio o cose molto tipo Revel anche ho visto poco tempo fa che ragazzi sono rimasto sconvolto da questo film quindi quindi non so se mi ho spiegato bene va bene ascoltare anche musica diciamo che è più facile che ci arrivi ecco diciamo così però bisognerebbe sforzarsi ad ascoltare anche qualcosa di cui noi non riusciamo a concepire sul momento quello che è ma a un certo punto prima o poi ascoltando mi deve per forza aprire il cervello perché oggi vogliono a tutti i costi che voi ascoltiate musica tutta uguale e così non pensate così non vi aprite il cervello e tutti i dischi che ho detto qua io più o meno sono tutti lasciamo stare magari un due ma insomma sono solo tipo gli Igor sono un bel disco però tipo i Pink Floyd tipo questo vi devono aprire il cervello c'è la solità a fare chiaro quindi ragazzi con molta pazienza ascoltate Love Supreme perché è veramente un capolavoro partorito da un genio e poi anche tutti gli altri dischi che ha fatto mi ricordo sempre questa cosa che ho letto su una sua biografia di Love Supreme dove lui suonava con Miles Davis un grande trombettista per chi non lo sa e insomma a un certo punto vanno in Francia tocca il momento di fare la sola John Coltrane fa sto solo allucinante veramente incredibile la gente lo fischia lui finisce tranquillamente di fare il suo solo fregava niente esce esce e il suo manager fa John forse è esagerato non è troppo per questo non sono pronti no sai sei troppo avanti no la gente non capisce tutto questo e lui risponde con questa frase che mi rimane sempre impressa non sono avanti io sono loro indietro prima o poi capiranno l'anno dopo è tornato ed è diventato John Coltrane tanto per spiegarvi questa bene terza posizione rullo di tambure Beethoven perché Beethoven mi dispiace anche quasi di averlo messo al terzo posto però Beethoven questa era la versione che avevo io di Karajan della nuova sinfonia di Beethoven ragazzi su questa cosa qua c'è poco da dire nel senso che è un è qualcosa di veramente secondo me non bisogna credere a nessuna religione a nessun guru che vi spieghi cos'è cos'è esiste oltre quello che noi vediamo perché se noi ascoltiamo Beethoven seriamente lo ascoltiamo col cuore riusciamo a percepire esattamente cosa sta oltre mi chiamo ragazzi perché lì non la gioia specialmente in un certo un certo momento è qualcosa di celestiale adesso io non vi faccio il pippone sugli accordi che sono usati che potrei farlo ma diventa complicato me ne rendo conto ma c'è specialmente un punto se vedesse questo pezzo un mio amico gazzetta impazzirebbe ma in certo un certo momento ci sono delle armonie e degli accordi incastratti perfettamente che non può essere che qualcosa di superiore cioè adesso lasciamo stare Dio nella versione che ci vogliono far credere che esista o che può essere così non voglio entrare in merito a questo ma ascoltando questa sinfonia con intelligenza voi non solo diciamo non serve andare da nessuna parte a pagare nessuno lì c'è lo vedete perché è talmente oltre ma talmente oltre che vedi tutte le dodici dimensioni in un attimo ma veramente è una roba mi rendo conto che molti ragazzi dicono che è una musica classica che palle che palle perché non la capite ragazzi è solo quello il problema è quello che dicevo prima cioè voi prendete un brano mi spiace sono milioni di brani io ascolto la radio ogni tanto mi cadono le basi sono sempre quelli quattro accordi è chiaro che per voi è facile capirlo qui non è così qui è tutto un incastro incredibile di strumenti che si parlano per creare qualcosa di superiore di incredibile bisogna riuscire a percepire tutto quello che sta succedendo è come capire un linguaggio ok è come capire un linguaggio se vuoi è facile da capire questo è qualcosa di più aulico di più superiore è superiore ragazzi non c'è niente a fare Beethoven con questo disco è superiore non c'è è come veramente che fosse stato toccato da diciamo da Deus che è il latino vuol dire il dio luminoso perché veramente va oltre le dimensioni secondo me bisogna saper ascoltare però ragazzi seconda posizione allora questo non è a livello del disco prima ok perché Beethoven è proprio però la completa trilogia di Lord of the Ring è bellissima ragazzi e Our Shore ha fatto un lavoro meraviglioso io ho fatto anche un video dove parlo di questa cosa dove vi spiego passo per passo è uno dei film che preferisco se non dire quasi il migliore insomma c'è solo un film che batte tutti che è italiano tra l'altro ma di questa cosa magari ne parleremo un'altra volta e questo disco mi piacerà morire non so perché adesso hanno fatto una versione nuova scusate ma sono ancora un po' malato hanno fatto questa qua è la versione che avevo comprato io adesso hanno fatto una versione totale insomma più rifini con tutto quello che c'è ed è veramente una roba mi piaceva morire mi sembra di essere sempre in questo posto meraviglioso una terra di mezzo vado a combattere contro mordo quando l'ascolto e quindi l'ascolto tantissimo mi piace un sacco mi fa andare lì c'è poco da fare mi fa andare lì in questa in questa in questa classifica ma anche anche John Williams perché anche John Williams ha fatto delle cose incredibili Star Wars è spaventoso se noi analizziamo a livello compositivo probabilmente Star Wars è molto più complicato di Love of the Rings però Lord of the Rings quando ascolto questa questa colonna sonora mi sembra veramente di essere lì mi piace da morire quindi magari a livello musicale è un pelino più basso del Beethoven che c'era prima però ragazzi a me mi piace da morire a me mi a me piace da morire e non c'è niente da fare ok perché qua non è un discorso di tecnica di cose è il discorso che mi piace da morire che se vuol dirvi questo 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 disco lo ascolto sempre Beethoven deve essere il momento giusto per ascoltarlo perché non è un disco che ascolti non so fai un lavoro al computer e ti ascolte no perché Beethoven devi mollare tutto metterti lì ascoltare solo quello perché se no non va la pena da Father of the Rings faccio le mie cose scrivo leggo varie cose metto su ascolto quando faccio vari lavori l'ascolto continuamente mi piace da morire mi trasporto in questo mondo parallelo insomma della terra di mezzo andiamo alla prima posizione la prima posizione non poteva non essere questo disco ragazzi mi ha accompagnato tutta la vita è assolutamente il disco che io ho ascoltato di più quando faccio lunghi trasetti in macchina piff è il primo che metto su per me Bruce in questo disco non è musicalmente teoricamente elevato come i dischi precedenti come Beethoven o come Piazzolla però ha un legame con me molto stretto perché quando l'ascoltai la prima volta che ero ragazzino non riuscii proprio a qualcosa che va oltre secondo me proprio un disco che mi è un bambino mi ha proprio colpito forte per certi versi forse mi ha cambiato la vita quindi per cui è una cosa estremamente un disco estremamente importante per me bellissimo è bellissimo poi il primo disco che ascoltai di Springsteen è stato Borning e Seve l'ho anche detto in un video dove dico grazie Bruce Springsteen però il mio disco preferito di Springsteen è questo qui io vado fuori in testa questo disco Ranch in the Street Bandless cioè veramente ragazzi The Promised Land Darkness cioè veramente mi piace non so perché c'è un legame con questo disco fortissimo che va oltre perché non so mi ha segnato la mia infanzia si può dire bene o male non so però senza dubbio è quello che a cui sono più legato non c'è niente a fare se dovessi portarne uno solo porterei questo perché mi mi tranquillizza mi fa star bene mi cioè gli altri dischi tipo Beethoven ti fa veramente elevare di livello più a sola ti da certe cose e Pink Floyd ne danno altre però questo per me questo gusto personale proprio non c'è un disco che io potrei ascoltare più di questo credo mai nella vita così almeno è stato in tutti questi anni credo che continuerà ad essere così perché non mi stanco mai di ascoltarlo ma veramente tantissimo è proprio una roba che non avete idea bene mi sembra che mi stia andando via un po' la voce perché è un po' la vera quindi il mio disco preferito di tutti i tempi è Bruce Springsteen Darkest Age of Town che sembra un concert album anche questo anche se ora non lo è però secondo me lo è ed è bellissimo ragazzi bene detto questo spero che questa cosa vi sia piaciuta che mi possa essere interessante vedere un video diverso oggi dove parlo solo di musica poi mi hanno fatto questa domanda e quindi ho voluto rispondere in questo giorno visto che sono passato a giorni di febbre in questi giorni c'erano 30 gradi poi esci fuori ce ne 4 ragazzi basta un attimo e quindi sono stato a casetta tranquillo tranquillo e ho voluto fare questa cosa come vedete non c'è niente di freccette intorno ma solo mi ha parlato di musica vi ringrazio vi saluto saluto a tutti a tutti